Il ritratto dello scrittore Leonardo Ciacia Il ritratto dello scrittore Leonardo Ciacia Il ritratto dello scrittore Leonardo Ciacia e replicandola, portandola in copia anche ad Hamilton da quando questa statua sarà installata alla Liuna Station i cittadini di Racalmuto e i cittadini di Hamilton vedranno la stessa opera d'arte è un fatto simbolico importante Oltre a portare dentro di sé il ricordo, l'amore, le immagini del proprio paese, i cittadini di Hamilton vedranno la stessa statua che vedono i cittadini di Racalmuto. E appunto questa è la strada migliore per onorare questo collegamento, questo lungo viaggio che lega la comunità di Racalmuto e la comunità di Hamilton. Il momento storico, questa statua identica alla copia, o l'originale, è stata messa nel nostro marciapiede alle spalle del circolo che frequentava Leonardo Ciaccia, il circolo Unione, guardando alla matrice esattamente vent'anni fa. Dopo vent'anni questa statua addirittura si replica e si porta anche ad Hamilton. Giuseppe Agnello was born in Racamuto, in the province of Agrigento, on December 9, 1962. He attended the Sculpture School of the Academy of Fine Arts in Palermo, where he now teaches sculpture and sculpture techniques. Agniello has created several notable public works, both in Italy and abroad, some of which include bronze portraits of the then-president of Syria, Hafez al-Assad, and his son Basil, which are placed in the same-name mausoleum in Aleppo and at the Damascus Theatre. A bronze bust of Pope John XXIII for the St. John of God Hospital in Agrigento, Sicily. Castings for the scenography of Cipri and Maresco's film, The Return of Cagliostro. The famous bronze statue of writer Leonardo Shasha, located in his hometown of Racamuto, Sicily. and a bronze sculpture dedicated to the famous commissioner Salvo Montalbano, a character created by Andrea Camilleri, a writer in Porto Empedocole. In 2008, Agniello collaborated on the realization of the sculptural part of Vanessa Beecroft's VB62 project for performance at the Spassimo in Palermo. Giuseppe Agniello, a famed and gifted artist, loved and admired in many parts of the world, lives and works in Racamuto, and will be forever loved by his fellow Sicilians living in Hamilton, Canada. ... ... ...